Manca veramente poco alla cerimonia degli Oscar che come tutti gli anni è l'appuntamento più irrinunciabile per tutti gli appassionati di cinema e di Hollywood. Dall'Italia sarà possibile seguirli come sempre su Sky che ha dato il via ad un canale appositamente dedicato. Domenica 26 febbraio dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar Canale 304 andrà in diretta in esclusiva la magica notte degli Oscar 2017 con il red carpet e tutte le premiazioni. L'evento poi verrà riproposto integralmente anche lunedì 27 febbraio a partire dalle 10.20 mentre alle 21.15 sarà proposta una ricca sintesi della cerimonia, il meglio della notte degli Oscar 2017. Su Sky 1 HD la sintesi andrà in onda dalle 23.30 disponibile anche su Sky On Demand. Per quanto riguarda la possibilità di vedere la cerimonia in chiaro questo sarà possibile su TV8. Il canale Sky Cinema Oscar trasmette 24 su 24 film premiati con l'ambita statuetta. Lunedì 20 febbraio è stata la volta del film vincitore del premio Oscar per miglior film e miglior sceneggiatura originale dell'edizione 2016, ovvero il caso Spotlight, che segue la clamorosa indagine della squadra giornalistica Spotlight del Boston Globe, volta a smascherare gli abusi sessuali perpetrati da oltre 70 sacerdoti dell'Arcidiocesi di Boston ai danni di minori. Il film vede protagonisti Mark Ruffalo, Rachel McAdams e Michael Keaton. Nei successivi giorni sono stati trasmessi su Sky Cinema Oscar, Stregata dalla Luna, Il paziente inglese, Platoon, Inside Out e La grande bellezza in versione integrale. Ad arricchire la programmazione l'edizione speciale di Sky Cine News, aspettando gli Oscar tutti i giorni dalle 20.55 su Sky Cinema 1 HD e Sky Cinema Oscar HD, ma anche speciali approfondimenti, tra cui il ritorno di Joe's Hollywood. Si tratta del docu-reality che racconta Hollywood in otto puntate attraverso gli occhi, le parole e la vita quotidiana di una delle regine indiscusse dello showbiz più esclusivo d'America, Joe Ciampa. Attrice, produttrice e ambasciatrice del cinema italiano nel mondo, Joe Ciampa condurrà il pubblico in un fantastico viaggio alla scoperta di Hollywood e dei suoi protagonisti durante la settimana cruciale per l'industria cinematografica mondiale, quella degli Oscar.